PEGI 16 Visore UD La barra della salute si trova nell'angolo in alto a sinistra. La lunghezza della barra della salute dipende dalla corporatura. Se un medico potenzia la tua salute, la barra aumenterà di un'unità. Puoi farla crescere ulteriormente acquistando delle abilità o catturando un avamposto medico. La tua classe attuale è indicata a sinistra della barra della salute. I potenziamenti attivi sono visualizzati a destra. Se sei in grado di potenziarti da solo, sarà indicato qui. Il progresso dell'obiettivo principale della tua squadra è indicato a destra in giallo. Mentre quelli secondari sono più in basso in blu. Il cronometro si trova nell'angolo in alto a destra e indica il tempo ancora a disposizione della squadra in attacco per completare la missione. Nelle modalità campagna e obiettivo il tempo a disposizione verrà esteso quando ogni obiettivo principale sarà completato. Il radar indica la posizione dei compagni in bianco e i nemici eventualmente avvistati in rosso. Anche il tuo obiettivo attuale sarà evidenziato. Le altre icone indicano oggetti piazzabili sul campo di battaglia, come le mine. L'icona granata mostra il tipo di granata che il personaggio è pronto a lanciare. Una volta lanciata una granata, l'indicatore diventerà grigio e inizierà a ricaricarsi. Quando è di nuovo pieno, sarà possibile lanciarne un'altra. Ogni tipo di granata ha un diverso indicatore di ricarica. L'icona dell'arma attualmente in uso si trova accanto al conteggio delle munizioni. Questo indica il numero di colpi presenti nell'arma e quello delle munizioni ancora disponibili per la ricarica. L'icona dell'arma secondaria è visibile qui. Nella parte in basso a sinistra sono visualizzate le abilità speciali del personaggio e la sua barra delle scorte. Seleziona un'abilità premendo il tasto corrispondente. L'icona dell'abilità utilizzata diventerà grigia e inizierà a ricaricarsi. Non potrai utilizzarla di nuovo finché l'icona non sarà piena. Utilizzare la maggior parte delle abilità costa un'unità della barra delle scorte. Questa si ricarica quando non è utilizzata. Questa si ricarica quando non è utilizzata. Questa si ricarica dove si ricarica è veramente un'abilità per le scorte. Questa si ricarica quando non è utilizzata.